è un sottilissimo filo cerchio e seno attraverso nt 23 maggio 2023 a cura di vb alexander dunque vi ricordate quanto vi disse la vostra guida raggio il contatto tra voi e noi è un sottilissimo filo immagine simbolica ma il termine filo rende benissimo l'idea quindi immaginate un siffatto legame tra le nostre dimensioni noi che ci manifestiamo siamo guidati non solo da un fermo proposito di comunicare e dalla pulsione d'amore che permea il creato tutto ma al di là della soggettiva volontà nostra c'è un desiderio e una volontà superiore alla nostra che delega l'intervento nella vostra dimensione quindi se si verifica una situazione in cui paradossalmente il beneficio che voi nella materia potreste trarne è inferiore alla sostanziale validità e alla configurazione di un risultato più ampio che risponda ad un preciso disegno allora si potrebbe valutare di non sprecare preziosissime fonti di energia per scopi non raggiungibili questo è un possibile motivo di interruzione di queste esperienze e un altro ancora potrebbe essere ravveduto nella vostra incapacità di crescita spirituale qualora vogliate ostinatamente restare ancorati tenacemente alla vostra umanizzazione e alla esigenza di gratificare solo il vostro io questi sarebbero motivi sufficientemente validi per i quali nemmeno nel nome dell'amore che vi portiamo sarebbe utile continuare però io sto facendo solo delle ipotesi